Che bello al buio Sì, vedo gli occhietti Ma che ti sei fatta male? Ho il piede Tanto io me lo faccio il pissing alla fin Guarda E come? E come? Come lo dice lui? Quello là, aspetta, com'è? Quello là, ti spupi gnusterle, quello là, io ce lo faccio Ti spupi gnusterle, io ce lo faccio Ti spupi gnusterle, io ce lo faccio Ti spascia la cuffia poi, non lo fare Mi ha un puzzle? Nooo, guarda che cosa ti stanno mandando su whatsapp Un ph? No, io non ci sto credendo Che cos'è? Ora che arriva Che arriva? Che arriva la polizia? Se è una cosa piacca mi piace Andiamo da Sami Andiamo da Sami Vieni Cos'è questo? Nooo Ciao 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 La devi mettere su TikTok Coglione No, tua mamma Allora Ciao 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 Ho dimenticato la password Ma di che caso Passaggio si chiama password Ecco come la password Martina Ciao C'è la gmail No 87 Aspetta Vai rubiamoci Il profilo Sì Intanto c'è anche la password C'è la password C'è la password Prendetelo Tanto non c'è un patch Devo fare bene E' tanto che non voglio prendere niente Io voglio prendere niente Io voglio regali Gli regali di 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 tutto Di tutto Perché non possiamo Partire Partire In che senso Dio La ludovica Di scaricarsi col gioco Asami Ma uguale Quello la che Stiamo giocando noi Che crum? Si Eh ma non so se ci gioco Eh ma non so se ci gioco Dai che ti ascolta a te Ma mi ascolta Che cazzo sono tua madre Chi è? Samy Il gallo Come si chiama quella? Cocote Cocote Aspè come si chiama? Si chiama Ama Dimmi come si chiama Dimmi il nome Dimmi il nome Mi serve dimmi il nome Il nome No dimmi il nome Non è quello l'account Ma perché ti ho bloccata Dimmi il nome Nooo ti ho bloccata Nooo ti ho bloccata Ma perché stai tolando Così mi rompete orecchiette 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 Non mi fa partire Come hai fatto a trovarmi? Ma hai amare quel passo Ma smettimela A smettimela A smettimela A smettimela A smettimela A smettimela Te lo scarichi Sami Rekrumi Non so che non mi sento Sami Dimmi Dice Gabri Te lo scarichi Rekrum E' un gioco in cui Ah Rekrum Rekrum E' un gioco che Incontri Tipo Non sono americani Rekrum Rekrum Oh Incontriamoli Personsigno Sono piccolini Ci sono piccolini In inglesi Che fanno noi Si incazzano pure Ma che fotoprofilo hai messo Chi è ambicappato Che sei Tu vuoi I Sai Ucan Sack Comunque siamo Ti devi guardare x-men Ci sei tu Tra gli x-men Quella la Quella la Quella la Che capelli come te Eh Hai poteri Il video che mi ha fatto male Quanto è carino Oh Adorio No Adorio Adorio Infatti Ma che schifo Lo sapevo Non è vero No Con te E' che uno Si è messo la cipolla Nei piene Pieni E' Gabriele No No Non sono Gabriele Sono Lillo Sono Lillo Non sono Gabriele Sono Lillo Sono Lillo Ma che cosa significa raga Io ancora non ho capito questa cosa Figlio di puttana Tu non devi più dire che Samantha è buona Perché se no ti andrò Sì Ditemi che sono una buona Sì Io sono Lillo Ma potete lasciare stare Michael che non ha fatto nulla madonna mia Michael Jackson è vivo? Sì ma non capisco cosa sbaglio Ti ho detto che non lo sbaglio un cazzo E' mica fatto Michael Jackson è vivo? Mi canti una canzone Michael? Si Uh 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 Ah c'è il file E' la sua inizia Ma c'è troppo assemblamento qua Dovete stare un po' distanti Cosa è? Cosa è questo? Un gatto? Aspetta aspetta Cos'è? Ma vai che sto dormendo a capotato? Ma povera Peppa Pig Poi batti le mani schiocche le dita tutto un umore tutta la vita Un uomo Ma cosa stanno a capotando? Non sono manco qui dai Io andata la patente Vai guida vai Che carino un uomo Perfetto Un uomo Perfetto Un uomo Che bordello che c'è Questo troia Dovete Dovete Allora Au In quante persone ci sono la sopra? Come fanno? A sopra Come fanno? Guarda solo con mio ascolo Oh ma ce l'ha finita e questi con la macchina Stanno facendo volare nel 5 secondi Oh ma ce l'ha finita e questi con la macchina Oh ma ce l'ha finita e questi con la macchina Oh ma ce l'ha finita e questo è un uomo Ma qui O se l'ha finita e se mettete bene nel lavandino Avrete l'acqua Ehm Troppo assemblamentus mandus mascherine dove di usare mascherine quando giocata a scuola a mascherine la mascherine come ho fatto io su tik tok a mascherine a mascherine il video è bellissimo fa la mascherine la mascherine super mascherine azione aspettate mi faccio un canale di più anche io ce l'ho colpa guarda sembra la canzone di pia no no ma come ma abbiamo fatto insieme ma questo poi ci abbiamo voluto e due ma non lo ricordavo ma facciamo questo bello timing insieme no questo no questo quale questo che sto facendo questo qua questo si aspetta ma che è un gatton animato che c'è qua vieni vieni questo dobbiamo fare insieme si ma lo devo trovare ma come hai fatto e perché l'hai fatto tu a volare come superman sami si sta tu non volai come superman come superman come super mario ma dove è stanno mettendo io non la vedo fammi a fare la stripper ah ok ciao samanta tieni questo questo posto che non lo so che cosa oh ma che cazzo vuole qui questo vuole solo suona ogni volta no se la stanno buttando via attenzione arriva dalla polizia non ci basta già pepe Yoda a Mandalorian ci basta anche una sami ah ora si sta buttando ma dove se la sta buttando oh ti hanno rubato sami eh vattene raggio nessuno la deve toccare eh eh spiega di collo spiega piglio di collo no anche io la voglio la macchina ma posso rompere le palle cioè c'è quanto ha dis quanto ha dis 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 la parola dis voglio la macchina della Lamborghini ma sai che è la storia guarda si scrive lemoth che bella che signifo grazie Michael si è un figlio di puttana cioè tutto wrap un po' detto bene infatti chiudiamo senza potente danno ci prende la polizia subito subito la polizia la polizia di portaria ogni si è uno scondo questa casa che ci fa a casa che si fa l'autoscom queste macchinette che fare queste sono le auto scondi capito sugli auto scondi fa sui scondi scuola e tipo tipo dove sei non diverso solo che è un gioco a fortnite alla vincione che se un cieco gioco a fortnite la fa la vittoria reale infatti ma ci sono sei amici perché una volta ho visto il video su youtube allora io voglio cercare su internet c'è cieco che gioca a fortnite lo voglio cercare youtube no sono curiosa sami è ritornata ma dove ti sta portando quel passo ma dove ti sta portando io gli scipo la macchina io gli faccio lo scondimento di giulia pad ha abbandonato la battuta non si chiama giulia si chiama nooo non non puoi prendere la macchina guarda ti amo parlare non ci tocca tu ma ci tocca summer 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 è stato e noti per chi non lo so si trova solo d'estate santo per completare la macchina sali 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 da me sguardo si è di gioia e non fare il caland'uomo con la sami o scappiamo mi portiamo via salino e c'è lo storia di troia andiamo sotto l'acqua e buona sotto l'acqua seguimento ma l'ho sotto la cucina di pesce ma io facciamo nemmo alla ricerca di sami no ma c'è sempre la cinema dov'è dov'è l'ultima vita non affogare nel culo no mi dissocio lo non mi dico ma dove sei il culo ti ho detto ma faccio un sito e mi chiedo se ci sono spacciato tutte le macchie fai gira dondo dondo sento la voce e portali ma che cazzo tutto anche lo posso fare a volare a volare a volare a volare sto facendo un dritti 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 sto facendo un dritti dritti a volare questa che cos'è 130 parti carix di quando dove andiamo nel mare profondo la socia tornato a merda e ci facciamo fare un bel bagno a sami si facciamo nemo oh non si inverte su il troio sami eh il titanic rosy wiii un'altra ho fatto il tiktok con gabriele eravamo qua e abbiamo fatto circa il rosy lui che guidava mi è disperata c sono un'altra ho arrivo arrivo non ringrazio si parla cervelli vado viva ma dove stanno da finire